Proseguono anche nel mese di gennaio le iniziative inserite nel cartellone della Magia del Natale 2018. Infatti le bellissime luminarie presenti nel centro storico della città rimarranno accese fino al 27 gennaio. Sarà possibile ammirare ancora per qualche giorno le splendide luci d'artista. Nel Palazzo dell'emiciclo fino al 24 gennaio invece sarà possibile ammirare la mostra dedicata a Remo Brindisi, altra iniziativa presente nel cartellone La Magia del Natale. La mostra è promossa e sostenuta dall'assessorato alla cultura e al turismo del Comune dell'Aquila in collaborazione con il Munda che ha messo a disposizione le opere del Grande Maestro. La proroga è stata possibile grazie al sostegno della disponibilità del Consiglio regionale. Molti turisti venuti all'Aquila per ammirare le luminarie durante il periodo natalizio. Questo è il motivo della scelta di continuare anche nel mese di gennaio per poter dare la possibilità ad altri turisti di ammirare la mostra, ha spiegato l'assessore Sabrina Di Cosimo.